Oggi nei governi la parola magica è il previsore, sono arrivate le previsioni della comunità europea, ci siamo dimenticati le visioni e abbiamo le previsioni, ma è mai possibile che questi previsori parlino soltanto di numeri macroeconomici e non tengano il conto del primo numero che la nostra Costituzione ha messo all'articolo 1, che è il conto delle persone che lavorano, che lavorano, non parliamo più di questo e quando Beppe Grillo dice in piazza daremo a tutti il reddito di cittadinanza, fa bene perché segna la profonda differenza tra noi e loro, noi non vogliamo dare a tutti il reddito di cittadinanza, noi vogliamo dare a tutti il lavoro, perché il lavoro è dignità, perché il lavoro è passione, perché il lavoro è vero, è vero, è vero, è vero. Grazie.